Ciao gente, siamo di nuovo qui su Venere, sempre per la playlist Loki Ero un po' indeciso se fare la missione linea che è un'altra Rescue o se andare direttamente su Tessera E alla fine direi di andare direttamente su Tessera e fare la missione Sabotaggio Perché comunque la Rescue l'ho fatta pochi video fa e non mi sembra il caso di rifarlo Perché praticamente è identico, il livello sarà sempre uno di quelli generati a caso dei Corpus con uno stagio da salvare Perché oltretutto dal salvataggio e lo stagio in poi non si può fare stealth per cui mi sembra uno spreco di tempo farla Sabotaggio è un po' più carina dai, anche perché si può fare stealth dall'inizio alla fine Bene, andiamo Poi mi inventerò qualcosa per fare dei video anche sulle altre modalità Survival, defense, mobile defense, o se ce l'avete in italiano, insomma, sopravvivenza, difesa, difesa mobile Per adesso, appunto, per Loki, non potendole fare con un approccio stealth, beh, io non le sto considerando Poi vedremo, ma probabilmente per quella lì dovrà diregistrare qualcosa in compagnia di qualche amico, insomma Sì, risulta anche un po' più divertente Il problema è anche registrarli, come faccio a registrare una sopravvivenza di un'ora O di mezz'ora anche, cioè, dovrei uploadarla, non lo so, aspettarla Ma non lo so, poi vedremo Ma intanto qua, proseguiamo Questi muoiono come cani È giusto così, perché i corpus, ricordiamo, sono odiosi e devono morire dietro ci sofferebbe Anche partorire con dolore non sarebbe male E se non altro, rispetto alla missione di Vesper Ui, che salto, ragazzi Bruata E rispetto all'altro livello, dicevo Mi hanno già droppato qualche speretta blu Nell'altro livello c'era da piangere per poter avere un po' di energia Ok, corriamo, qua sembra deserto Ok, come non detto c'era un molly, pronto Devo stare zitto, non devo dire niente Mi tiro la zappa sui piedi da solo Mamma mia, quanto mi piacciono gli archi Come che devo... Ah, è vero C'è qua il suppostone con i cristalli Mi conviene usare i kunai, se no ci metto un'ora e mezza Oh, tutti li sto missando Dai ragazzi, questo è ridicolo Oh mio dio Non ci avevo pensato, non ho un'arma buona per farlo I kunai hanno un sistema di mira ridicolo Che hanno questa parabola Colpisce un po' più in basso rispetto a dove puntiamo, no? Oddio, non ci... Oh, ci l'ho fatta Che vergogna, signori, che imbarazzo No, sto scherzando, non me ne frega niente L'abbiamo distrutto, non mi hanno sgamato Va benissimo così Spido voi a fare la stessa cosa con i kunai Si fa, si fa Però il problema dei kunai è quello Cioè, io punto qua Ma quello colpisce più sotto Per cui colpire tutti quei... Quei cilindri non è proprio così immediato Poi io voglio arrivare al boss Cioè, queste missioni... Basta Basta Corpus, ragazzi Cambiamo sistema Guarda Questo, questo... Questa è la fine che devono fare i Corpus Aperti Quanti sono? Questo si è proprio affacciato Ciao Ciao Ma io devo già andare all'estrazione? Eh sì, ho sabotato il coso Ah, ma dai Siamo già arrivati Cioè, se non perdevo un quarto d'ora a distruggere i cil... No Boh Dico, se non perdevo un quarto d'ora a distruggere i cilindri Avevo già finito, damo Ole Bella Finita anche questa missione Ci avviciniamo sempre di più a Jackal Non vedo l'ora di fare il video Va bene Vi saluto Ciao